Lei sul palco di Supermax Francesco De Gregori con la leva calcistica del 68 Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone E terre e polvere che tira vento e poi magari piove Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura 12 anni e il cuore è pieno di paura Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai Di giocatori tristi che non hanno vinto mai Ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai E poi chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai Nino capì fin dal primo momento L'allenatore sembrava contento E allora mise il cuore dentro alle scarpe e torse più veloce del vento Prese un pallone che sembrava stregate Accanto al piede rimaneva incollato Entrò nell'aria, tirò senza guardare Ed il portiere lo lasciò passare Ma Nino non aver paura di sbagliare Un calcio di rigore Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall'altruismo Dalla fantasia E il ragazzo si farà Anche se ha le spalle strette Quest'altro anno giocherà Con la maglia numero sette Anche se ha le spalle 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 Grazie Francesco Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te Max io direi che è giunto quel momento Ovvero di fermarci per pochissimo Per la pubblicità Ma torniamo subito su Ray2 Con Supermax Indolore Pubblicità Con Banca Mediolanum hai tante soluzioni di mutuo Per una casa tutta tua E la consulenza del tuo family banker Nella gestione dei risparmi La tua vita cambia La tua banca Grazie a te